Una scuola chiusa che non è più ad uso degli studenti ma di piccoli mandali che entrano ed escono indisturbati di giorno e di notte nella zona retrostante del plesso scolastico, bivaccando e lanciando per aria sedie e materassi, creando insomma disturbo al quartiere. L'altro giorno si è reso necessario l'intervento della squadra volante del commissariato in via Cornacchiola nell'area del plesso scolastico Lombardo Radice, chiuso in attesa dei lavori di adeguamento sismico, completamente abbandonato a se stesso. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati residenti della zona che da tempo assistono allo spettacolo dei ragazzi che entrano ed escono dalla scuola chiusa, ancora in attesa dell'apertura del cantiere. Entrano, prendono le sedie, si mettono a bivaccare, non se ne può più, è una vergogna, ma anche mancanza di educazione civica in tutto e per tutto, fanno notare gli abitanti del quartiere per poi tornare sul destino della storica scuola. È un edificio bellissimo che non è più ad uso dei bambini. Vorremmo capire quando riprenderanno questi lavori. La scuola non può essere lasciata in questa grave situazione. Tuonano ancora i residenti che plaudono al pronto intervento della polizia che, giunta sul posto, ha identificato i ragazzi. Se è vero che in città mancano dei punti di ritrovo e aggregazione per giovani, questa carenza non si può colmare utilizzando scuole chiuse per giunta inagibili. Alla scuola radice non a caso, qualche anno fa, fu appiccato anche un incendio che nei fatti è rimasto impunito. Per questo è necessario accelerare le procedure per aprire cantiere e restituire la scuola alla città.